Happy Christmas, composto da John Lennon, Happy Christmas è diventato nel corso degli anni una famosa melodia natalizia che richiama il tema della fratellanza e della pace nel mondo. Andremo avanti con A Christmas Festival, composto dallo statunitense Leroy Anderson. A Christmas Festival è una pregevole suite di conosciutissimi motivi natalizi, tra i quali riconosciamo Santa Notte, Adeste Fidelis e Jingle Bells. A Christmas Festival sarà eseguita dalla fanfara dipartimentale di Taranto in una strumentazione per orchestra di fiati dello stesso autore. Il terzo brano sarà l'inno dei sommergibilisti, composto prima della seconda guerra mondiale dal maestro Ruccione. L'inno dei sommergibilisti esprime la fierezza e l'orgoglio di coloro che lavorano a bordo dei sommergibili servono la patria con onore. Ultimo brano sarà La Ritirata. Il maestro Tommaso Mario, cronologicamente fu il primo direttore della banda della Marina, scrisse questa famosissima marcia chiamandola La Ritirata per suggellare un momento della vita marinaresca, il rientro in serata dopo la franchigia a bordo delle navi o in caserma. Tanto che il passato veniva eseguita nella città di Taranto e la Spezia, appunto per ricordare ai marinai la fine della franchigia. Dunque io l'ascolterò insieme a voi, per cui buon ascolto e buon proseguimento con il maestro e la grandissima orchestra. Grazie. 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 Grazie.